Grazie per la visione! E noi sappiamo che tu sei in un tournée, che hai scritto delle bellissime canzoni, che canti adesso una canzone che fa parte di un tuo album. Ce ne vuoi parlare? Un cd, ultimo cd, scritto dall'autrice Giovannina Menino. Così io ho presentato nell'occasione di biologizzazione di Papa Giovanni, parlo. Così io canto un bel solo da questo cd. Come si intitola nel pezzo? Solo gocce, solo gocce. La grande voce di Yashin Ichko. Grazie. 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 Grazie.